Hello people da Scrazzano 5, welcome in questo primo video questo sarà un tutorial di Kerbal molto semplice e molto corto su come andare in opera aspettiamo una mattina perchè lanciare al buio si comincia a prendere una capsula di quelle più base e uno scudo termico poi un decapler T12 per sganciare lo stavio che ci portiamo in orbita un carcadute MK16 e delle tanniche io ho scelto questa qua, la stavo comparando ma alla fine ho scelto questa qua mettete un motore Terrier che sono molto ottimizzati per il vuoto un decapler T12 e facciamo per uno stadio una delle tanniche più lunghe e un'altra tanto che questo razzo è un po' pesante ci servirà un po' più di potenza sul primo stadio per avere, qua c'è un piccolo errore di me che sistemo il mio audio finito? mettiamo quattro lette che ci rientreranno nel controllo e due decapler letterale, adesso qua ne sto mettendo quattro poi cambierò due perchè metteremo due piccoli booster soldi per salire meglio ecco, questi qua, i flea, non so come si pronunci poi un cronodinamico di quelli più base possibile perchè questo razzo è progettato per essere più base possibile, chiamiamolo orbita non so, vai lancia sistemate gli stadi, fate concire l'accensione del motore principale con il booster perchè non l'ho fatto in costruzione poi premendo spazio si accende il stadio abbassando la potenza controlliamo meglio il razzo poi a circa 2000 metri sul livello del mare cominciate a girare facendo in modo che quando arrivate a 10.000 metri sarete a 45 gradi di inclinazione che funziona così per quasi tutti i razzi alcuni necessitano di uno più aggressivo come un po' meno, questo è piuttosto giusto come razzo una volta raggiunti i geometri si procede verso il zero circa le forze aerodinamiche, questo è il fuoco che ci circonda per via dell'alta velocità che abbiamo prendiamo spazio si accendiamo il primo stadio, accendiamo il secondo stadio fino a che l'indicatore lì sotto che sta puntato con la freccetta segnerà 80 km che è un'attitudine ideale per provare a fare un'orbita ora uscendo fuori premendo il tasto sinistro sulla po' asse e si crea una manovra tirando il prograde che è questo segnalino giallo si programma una manovra e quando i due indicatori gialli si incroceranno a girare insieme vuol dire che la manovra sarà giusta nell'NS automatico si preme manuver che è accanto a stability assist per puntarsi in manovra e poi con Z si accende il motore quando il tempo di accensione quando il tempo alla manovra è la metà del tempo di accensione succede e poi con parere per gli asse cominciano a girare poi spengo un tocco in più e si chiude la manovra perché si è in orbita un piccolo viade di Gebedia per fare lo screenshot della copertina che probabilmente sarà questa così metto in pausa faccio lo screenshot ecco fatto si torna e poi vorperemo la po' asse premendo sulla po' asse in orbita perché è il punto più efficiente per teorbitarsi e tornare giù sul pianeta ecco qua siamo arrivati ci puntiamo in retro con l'SIS e si accende il motore quando la telecamera si era girata si spegne il motore mandiamo avanti il tempo finché non raggiungiamo 70 km una volta raggiunti scranciamo l'ultimo stadio e si procede verso terra e tra poco comincerò a mandare avanti il tempo perché è un po' lento vediamo se mi sbrigo quando ho giocato ecco qua il scuro termico ci aiuterà a evitare di bruciare il rientro per via delle forze linee anche dato che la nostra traiettoria era piuttosto piatta le forze aerodinamiche ci arriveranno molto dopo qua sono io che testo la lag perché c'è la lag che non avevo mai inutato durante il rientro si procede andando avanti il tempo finché i fattesimi suoi ce ne finiscono e si apre il paracadute andando avanti il tempo ancora fino a circa mille metri da suola a mille metri da suola si apre il paracadute si apre completamente e andando a circa 6 minuti al secondo si tocca a terra a sicuro guarda tutto goodbye people